Sio Stok ciao a tutti oggi voglio parlare di una notizia completamente censurata da tutti i media italiani e voglio farlo attraverso un servizio a televisione pubblica M1 come ormai sempre accade sempre di più la polizia tedesca ha dichiarato la matrice dell'attacco di due settimane fa a Dresda quindi siamo in Germania la matrice islamista il 4 ottobre scorso in centro un siriano senza un apparente motivo ha accoltellato due uomini tedeschi uno morto sul colpo sul posto in strada l'altro lo hanno salvato in extremis in ospedale il sospettato è riuscito a fuggire è stato poi identificato nei giorni a seguire e martedì scorso di sera è stato arrestato il giovane Abdullah sappiamo solo il suo nome è arrivato nel 2015 in Germania dove si è radicalizzato in fretta e ha reclutato soldati per lo stato islamico per l'isis è stato in prigione 5 dopo essere riuscito ha compiuto l'attentato nella città di Dresda lo riferisce un articolo dello Spiegel quindi un giornale importante da cui i giornalisti italiani hanno filtrato questa notizia non l'hanno fatta passare in Italia la corrispondente di M1 Nol Kotlin racconta dei particolari veramente interessanti della vicenda il giovane siriano di Aleppo arrivato in Germania da minorenne si è subito fatto notare dalla polizia locale per il fatto di aver reclutato soldati per l'isis su internet quindi online e per aver incitato i musulmani a lottare contro gli infedeli cristiani in Germania pensate un po' progettava di costruire una bomba per un attentato per tutto ciò ha scontato solamente due anni e nove mesi in galera perché minorenne e non mangiorenne dal 2015 è in Germania come richiedente asilo non ha ancora lo status di rifugiato e per questo non può essere espulso questa è l'assurdità della legge tedesca per catturarlo ci sono voluti 29 poliziotti un vero e proprio commando sapete poi il motivo per cui in Italia non è arrivata questa notizia urta le minoranze in questo caso la minoranza islamica